Da tempo si parla della crisi dell'auto ed in effetti non abbiamo mai assistito ad un crollo del settore come quello che si sta verificando ormai da alcuni anni e principalmente proprio in Europa. Ormai le auto si vendono solo con gli incentivi, in altre parole soltanto se una parte della spesa viene sovvenzionata da fondi pubblici. Ma sapete cosa penso io dei cosiddetti incentivi statali? In linea di massima sono sempre contrario, semplicemente perché vanno ad alterare il mercato ed il mercato poi tende sempre all'equilibrio, quindi normalmente tutti quegli incentivi statali nel medio periodo non hanno alcuna influenza positiva. Banalmente avviene questo, insomma, il mercato dell'auto è in crisi, se ne vendono poche e le case costruttrici minacciano licenziamenti o, nella migliore delle ipotesi, di far ricorso la cassa integrazione. Per aiutare il settore si prospetta così che lo Stato erogherà degli incentivi sull'acquisto di autovettore. E allora il mercato si ferma del tutto, perché naturalmente nessuno compra più un'auto sapendo che, insomma, in tempi brevi verranno ufficializzati degli incentivi. E se lo Stato prende un po' di tempo, le case automobilistiche premono per accelerare appunto l'introduzione delle agevolazioni statali, perché in caso contrario si prolunga ulteriormente il periodo nel quale crollano le immatricolazioni e la crisi delle vendite, anziché risolversi, ovviamente si inasprisce. A quel punto lo Stato, certo, deve darsi una mossa e quindi vengono ufficializzati gli incentivi, finalmente tornano le vendite. Ma ovviamente gli incentivi hanno un tempo limitato e soprattutto hanno un plafond raggiunto il quale gli incentivi terminano. Finita la droga, finito il mercato alterato, si torna alla normalità, ossia le vendite crollano. Quindi tutte le vendite si concentrano in un tempo limitato, ma il maggior numero di immatricolazioni dovute agli incentivi compensa solo il minor numero che si registra prima e dopo il periodo nel quale appunto vengono erogati gli incentivi. Naturalmente sappiamo poi, come ripeto sempre, che lo Stato non crea ricchezza, sono state vendute un po' più di automobili. Certo, ma dobbiamo anche chiederci da dove lo Stato ha preso quei fondi per sovvenzionare le case automobilistiche. Ovviamente li ha presi dalle tasse pagate dai cittadini, quelle che insomma tutti noi paghiamo. Quindi erano fondi che se non fossero stati erogati per favorire il settore automobilistico sicuramente sarebbero stati destinati ad altre cause, magari anche più nobili. Ma comunque non addentriamoci in una discussione sul merito, ossia se lo Stato avrebbe potuto impiegare quei fondi destinati agli incentivi per l'acquisto di auto in maniera diversa e invece soffermiamoci per capire se questa crisi dell'auto è solo transitoria oppure ormai sta diventando cronica. Allora, diciamo che la crisi è cominciata con la pseudopandemia, quindi per quanto riguarda la vendita di automobili dobbiamo prendere come anno di riferimento il 2019. Ed ecco allora intanto qualche dato. In Europa la produzione di auto è calata del 22% rispetto al 2019, semplicemente perché il previsto boom delle auto elettriche non si è visto. Non c'è stato. Le auto elettriche non si vendono o non si comprano, insomma fate voi, e quindi non si producono. In Italia nei primi sei mesi dell'anno le immatricolazioni di auto sono state sorrette dagli incentivi, finiti i quali i numeri sono passati immediatamente in rosso. Nel mese di agosto le immatricolazioni sono calate del 13,4%, decisamente diciamo più severo è il calo se appunto noi lo raffrontiamo con il 2019. Rispetto al 2019 il calo delle immatricolazioni è stato del 22% nei primi 8 mesi dell'anno in corso. Ecco, il bilancio tuttavia rimane leggermente positivo, più 3,8%, ma non dobbiamo assolutamente festeggiare, per due motivi. Il primo, visto che ormai, perlomeno insomma fino alla fine dell'anno non si parla di ulteriori incentivi, è quasi certo che nei prossimi mesi il bilancio si tingerà di rosso. Secondo, quel più 3,8% è calcolato rispetto allo scorso anno, ma diventa un meno 18,5% se il raffronto venisse fatto con i primi mesi del 2019. Ma come detto a preoccupare sono proprio le, direi, cupe previsioni che gli esperti del settore riservano al futuro del comparto automotica. Tutti infatti concordano sul fatto che la crisi sarà strutturale e colpirà in particolare proprio l'Europa. La scelta di puntare tutto sull'elettrico non solo non paga, ma pare si stia dimostrando una scelta disastrosa. A conferma di ciò, ecco i dati drammatici della più grande casa automobilistica europea, la Volkswagen, che annuncia un piano di austerità senza precedenti. Con ogni probabilità verrà chiuso almeno un importante stabilimento in Germania, cosa mai accaduta in 87 anni di storia. E soprattutto per 110.000 lavoratori verrà sospesa la cosiddetta garanzia del lavoro. Ricordiamo infatti che un accordo fra l'azienda e i lavoratori della casa automobilistica tedesca, accordo attualmente in vigore, garantiva ai lavoratori in Germania, lo ripeto, è solo ai lavoratori in Germania, garantiva loro il posto di lavoro negli stabilimenti della Volkswagen fino al 2029. Ora, appunto, si vocifera che l'azienda intenda disdire univocamente questo accordo. Va segnalato poi che il titolo Volkswagen alla borsa di Francoforte dalla fine del 2019 ha perso il 45%, insomma il suo valore si è quasi dimezzato. E dal 12 aprile del 2021, giorno nel quale il titolo ha fatto segnare il suo massimo storico, arrivando a quotare 245 euro per azione, da allora il ribasso è stato del 60%. Ma ripeto, la crisi non interessa solo Volkswagen, bensì tutto il comparto automotive. Tanto per vedere cosa succede in casa nostra, sì insomma, casa nostra si fa per dire. Comunque, Stellantis nel mese di agosto ha avuto un vero e proprio crollo verticale delle immatricolazioni. In Francia meno 31,7%, in Italia ancora peggio meno 32,4%. Sapete infine quanto incide l'occupazione sul comparto automobilistico. Insomma, avete capito, si prospettano tempi duri per Germania, Francia e Italia.